Sabato 21 e domenica 22 marzo si rinnova l'appuntamento con le giornate FAI di primavera, con le quali il gruppo Gabrielli consolida il proprio sodalizio. Giunte alla 23esima edizione, l'appuntamento di quest'anno è stato arricchito da una serie di iniziative. Il FAI apre 55 beni quest'anno nelle Marche, con uno sforzo notevole, con una sinergia completa fra ciceroni, docenti, privati, istituzioni che ci permettono queste aperture e tutti i volontari che si sono adoperati per selezionarli, per organizzare le aperture e per organizzare tutto il grosso lavoro che culminerà il 21 e il 22 marzo nella visita. Noi siamo orgogliosi di affermare che un'azienda marchigiana leader nell'alimentazione, il gruppo Gabrielli, è al nostro fianco come sponsor per le giornate FAI di Marche e Abruzzo. E oltretutto ci aiuta nella campagna di raccolta fondi, perché io vorrei ricordare che per la fondazione questa è anche una campagna di educazione, ma anche e soprattutto di raccolta fondi. E dunque Gabrielli quest'anno sponsorizza le giornate e per ogni 25 Euro di spesa nella settimana dal 16 al 22 ne devolve uno al FAI. Nel nome della cultura c'è una conoscenza più approfondita per gli stessi marchigiani e anche una straordinaria opportunità per i non marchigiani. Quindi ringraziamo il FAI, i cinque rappresentanti provinciali, la presidentessa Alessandra Stipa per l'enorme lavoro di valorizzazione dei beni culturali che in questi anni sta facendo.